Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori motoseghe a scoppio. Vi invito ad dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti gli indiprodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo al video. Quindi cominciamo con la motosega Hyundai. Iniziamo questa top con un eccellente rapporto qualità prezzo con questa motosega Hyundai. Infatti prima di passare ai modelli professionali vi presentiamo un modello che può essere facilmente utilizzato da chiunque anche da chi non ha necessariamente bisogno di una macchina ad alte prestazioni. In effetti abbiamo qui una motosega venduta a 200 euro che è davvero un buon prezzo per una macchina a benzina. È anche abbastanza potente con un motore da 62 cc e una lama da 50 centimetri. Inoltre dispone anche di tutte le caratteristiche di sicurezza naturalmente con una protezione per le mani e in particolare un'autolubrificazione della catena che consente di avere un modello più duraturo e resistente. Poi troviamo la motosega Steel. Passiamo a uno dei marchi più noti nel mercato delle motoseghe Steel. Le marche tedesche in generale sono buonissime come per esempio Bosch, Braun o altre che sono davvero marche che sono riuscite a dominare il mercato con modelli di qualità a buon prezzo e soprattutto ultra potenti. È il caso di questa motosega benzina di Steel che è davvero un modello perfetto anche per i professionisti. Si tratta di una motosega con una lama da 45 centimetri ultra resistente e di ottima fattura che vi permetterà di tagliare qualsiasi cosa. È anche molto facile da usare e da impugnare. In questo modo è possibile lavorare per ore senza alcun dolore. Il motore è molto potente con 45,6 centimetri cubo ed è un recentissimo motore a due tempi che consente di consumare molto meno carburante. È presente anche un sistema contro le vibrazioni e la manutenzione è davvero semplice. In breve un ottimo modello. E per finire ecco la motosega Husqvarna. Per competere direttamente con la motosega Steel che abbiamo visto in precedenza ecco il marchio Husqvarna che è un altro must per questo tipo di attrezzature. Si tratta di un marchio svedese specializzato anche in motoseghe. Rivolgersi a questo tipo di marchio è quindi il modo ideale per avere prodotti progettati da veri esperti del settore. Anche in questo caso abbiamo un motore davvero efficiente che consuma meno ed è più duraturo in particolare grazie al sistema di raffreddamento molto efficiente. Abbiamo qui un modello ancora più potente del precedente con 70 centimetri cubo e una lama di 45 centimetri. Questo modello è stato progettato per avere una capacità di taglio superiore del 12% rispetto ai modelli di pari potenza. In breve questo è davvero il modello top di gamma della categoria. Ecco grazie per aver seguito questo video spero che ti sia stato utile non esitare a mettere un like un commento e a discriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.